Ieri sera siamo andati, passeggiata naturalmente, a vedere i pochi artificiali. Sulla strada del ritorno il camion è arrivato verso di noi e il camion ha colpito mio papà è una nostra amica italiana e mio papà ha perso una gamba e deve ancora avere un'operazione però siamo stati fortunati che c'era tanta gente che aiutava. In ospedale sono tutti molto gentili. Trasportavano soltanto i feriti e non ci lasciavano andare nell'ambulanza con loro e ne mettevano due per ogni ambulanza. Ci è voluto più di 45 minuti prima che riuscissero a portare via mio papà. Suo padre è stato l'unico ferito e anche la sua amica? Anche la nostra amica, non l'abbiamo ancora trovata. Non sanno ancora dove. È stata presa su dall'ambulanza. Ha detto che era qua ma non la trovano. Non riescono a trovarla, il marito è disperato. È successo tutto velocissimamente e questo camion aveva le luci spente e quindi non l'abbiamo visto. C'era tanta gente davanti a noi, dietro di noi, c'era confusione. E quindi fino all'ultimo momento non si è visto quando il camion è arrivato su di noi e ci siamo buttati chi a destra, chi a sinistra. Il camion sbandava, destra e sinistra, destra e sinistra. Ora che il camion è passato ci siamo tirati su. Mi sono girata e mio papà aveva la gamba distrutta, si teneva un palo. L'altra signora era a terra e abbiamo iniziato a cercare di... ho tolto la maglia, li ho tirato, li ho fatto da... come si dice? Per fermare il sangue. Torniquet sulla gamba e poi anche dei passanti hanno dato una cintura, l'abbiamo chiusa stretta e poi abbiamo iniziato a gridare per aiuto, i pompieri passavano e dicevano che c'erano tanti feriti, c'erano tanti feriti e venivano quando potevano e ci ha voluto più di 45 minuti prima di aver avuto aiuto.